Ben trovati, anche se in queste ore l'amministrazione Trump ha fatto sapere che probabilmente la cosa è un pochettino raffreddata in attesa di elementi davvero costruttivi che arrivino dal comportamento della Corea del Nord, si vocifera comunque di una possibile meeting tra Donald Trump e Kim Jong-un nel mese di maggio. Cerchiamo di osservare che cosa potrebbe rappresentare questo incontro, opportunità oppure rischi, grandissimi rischi. Io propendo più per la seconda ipotesi. Beh Leo, però proprio tu che nei video su Kim Jong-un e sui test missilistici che lui ha compiuto nel corso degli ultimi mesi avevi espresso perplessità sul proseguimento delle sanzioni, dell'embargo, dell'esclusione da questo partito dal contesto mondiale in maniera compiuto e favorito invece un'apertura al dialogo alla diplomazia. E ora di fronte ad un incontro probabile che fai? Ti tiri indietro? No, perché un conto è la diplomazia e un conto è un incontro tra queste due persone. Ma esplicitiamo alcuni punti fondamentali che sono quelli che destano in me qualche perplessità. Dobbiamo partire dal fatto che, ricordo, la guerra di Corea effettivamente non si è mai formalmente chiusa, non è mai stato firmato un armistizio e quindi tecnicamente ogni possibile conflitto potrebbe ripartire da un momento all'altro senza problemi, diciamo, di forma da dover mettere in campo. La guerra è sostanzialmente aperta. Sicuramente questo incontro dovesse avvenire sarebbe trionfale dal punto di vista della diplomazia. sarebbe non per i risultati. Già il fatto che si compisse sarebbe assolutamente una cosa inedita, uno degli elementi di diplomazia più sconvolgenti degli ultimi decenni. Però bisogna cominciare a pesare le posizioni dei due leader di fronte a questa eventualità. Parlando di Kim Jong-un, secondo me sarebbe un trionfo sotto tutti i punti di vista. Pensateci bene, avrebbe una sorta di accreditamento a livello mondiale dal peso specifico enorme. Ed essendo tutto il suo regime, la sua presidenza fondata sulla prosopopea e sulla propaganda, che cosa dimostrerebbe al suo popolo che tante delle persone volevano come l'elemento da far scatenare affinché si modificassero gli asset interni del paese, sarebbe un trionfo, perché lui potrebbe raccontare a buon titolo al proprio popolo che si è seduto al tavolo del presidente della più grande forza mondiale esistente, gli Stati Uniti d'America. Trump invece, se facesse un attimo pace con il proprio cervello, si renderebbe conto che lui ha tutto da perdere. O probabilmente ha molto da nascondere. Le voci insistenti che parlano di un apprezzamento da parte di Trump e di questa proposta nordcoreana di trovarsi al tavolino d'intesa raccontano che lui possa aver pensato, come fa lui, d'impeto, che questa occasione potrebbe essere sicuramente una sorta di sipario da far calare di fronte a tutte le magagne interne che lui stesso ha, a partire dalle defezioni ormai quasi settimanali del suo entourage, ma anche degli scandali aperti, tra i quali quelli dei rapporti con la Russia, non ultimo quello dei legami con questa attrice del passato attraverso la quale sarebbero venute fuori tutta una serie di cose, ma lo sappiamo. Ecco, cosa ha da nascondere Trump sotto il proprio tappeto? Lo sappiamo abbastanza bene tutti. Chiaramente sarebbe tristissimo a livello mondiale che lui prendesse questa occasione di dialogo in una delle zone più calde dal punto di vista geopolitico e della possibile conflittualità mondiale per spazzare sotto al tappeto all'ennesima volta le sue cosine. La percezione che ho è che alla velocità con la quale lui, ovviamente senza consultarsi senza consultarsi praticamente con nessuno all'interno del suo entourage o insomma senza convocare e prima di dare una risposta sulla quale adesso sta facendo probabilmente passo indietro proprio perché è stato tirato per la giacchetta, lui ha risposto d'impronta perché evidentemente sentiva di voler fare questa cosa e l'ha fatto anche in maniera, se vogliamo, simpatica perché c'è stata anche una domanda di un giornalista al quale gli ha detto ma che cosa potrebbe significare andare a parlare con un pazzo e lui ha detto beh, non lo so, questa è l'evenienza che spetta a Kim nel senso che lui è il pazzo e Kim è quello sano. Vabbè, insomma, ci ha provato, ha fatto un po' la battuta. La percezione, dicevo, mi sto perdendo, accidenti a me non fareste cose a braccio, questi vlog anche se tagliati sono a braccio non c'è una scaletta, viene proprio dietro, insomma. Comunque, la percezione è che ambe due siano convinti di avere in pugno l'altro di aver trovato una chiave di lettura per vincere la disfida, ecco. Ora immaginatevi che cosa potrebbe significare un incontro a due tra questi due personaggi allora quando si presentassero entrambi convinti di avere in pugno l'avversario. Ecco, dal punto di vista geometrico, se dovessimo fare un disegnino di un segmento rispetto a quale parte del segmento è più da una parte e più dall'altra, e beh, insomma, se tutti e due sono convinti di aver vinto il margine perché ci sia davvero un compromesso tra i due è risicatissimo. Kim, d'altro canto, mette subito sul piatto una moneta forte per convincere l'avversario ad andare a maggio ad incontrarlo. Dichiara, infatti, che è disposto ad interrompere i test nucleari. Ma che cosa significa questo? Bisogna fare un passo indietro e essere anche rapidi perché il tempo vola nello spiegare questa cosa. Lui i test nucleari li ha già compiuti, ha già dimostrato molte volte di avere in mano qualcosa. Non si capisce l'entità della potenza di fuoco che è in grado di spiegare, ma sostanzialmente lui la bomba atomica ce l'ha e ha anche dei vettori che sembrano essere cresciuti dal punto di vista della portata e della gittata. Ecco, quindi il deterrente, il fatto che questa persona abbia in mano, questo Stato abbia in mano, la possibilità di attaccare se non la costa degli Stati Uniti che sembrerebbe comunque possibile guardando agli ultimissimi lanci che sono stati fatti di missili balistici, malgrado ciò ha qualcosa in mano, quantomeno anche solo per bombardare quelli che lì stanno sotto, la Corea del Sud o il Giappone, che poveraccio insomma alla fine è sempre il cestino del mondo dal punto di vista nucleare, però lui la potenza di fuoco l'ha già espressa, quindi tutto sommato l'equilibrio della deterrenza determinato dal possesso di armi nucleari, lui ce l'ha già, anche se interrompesse davvero oggi dei test che peraltro in passato hanno creato anche problemi e vittime al suo stesso popolo. almeno se si riesce a capire tra le righe di quello che traspare, di quello che riesce a filtrare dal mondo della Corea del Nord. Quindi è una vera e propria concessione quella di Kim? No, è una falsa concessione che però suona bene, sarebbe una cosa che magari qualche allocco potrebbe acchiapparlo e quindi potenzialmente Trump, certo, è proprio il pubblico adatto. In questo bisogna anche lodare con veramente, con sperticato amore, un amore viscerale, anche se qui in Italia non lo conoscerà nessuno, il lavoro del presidente attuale della Corea del Sud, Moon Jae-in, perché è stato un lavoro indefesso, perché ha trasferito anche alla Corea del Nord una parte dei risultati di un'Olimpiade che sostanzialmente ha pagato da solo, perché ha cercato di costruire sin dalla sua investitura il ruolo di pacificatore, di veramente, di pacere, insomma è un zanto, diamogli il Nobel visto che è stato dato a cani e porci, però questo ruolo, questo ruolo è anche un ruolo sacrificale, importante, perché se questo meeting andasse male, alla fine, paradossalmente, di fronte all'amministrazione sudcoreana più aperta possibile nei confronti di Kim Jong-un e del suo regime, paradossalmente sarebbe lui a rischiare più di tutti gli altri. Il rischio di fallimento va da sé, ce lo siamo detti in questi minuti, dipende dall'imprevedibilità totale dei due personaggi, tanto più che ambe due hanno pochi referenti ai quali davvero dare ascolto. Certo, la struttura politica americana è importante dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista dei ruoli, dal punto di vista degli anticorpi che può mettere in campo per evitare di far scivolare quel paese in situazioni drammatiche, ma non è negli incontri faccia a faccia che Trump ha dimostrato di riuscire a rimanere nell'alveo di questo circuito di sicurezza interno, anzi, ogni volta che l'omino si è mosso nel mondo da solo, ha seminato danni, paura, raccapriccio, tristezza, demoralizzazione, affanno. Inserite qua altri aggettivi sotto nei commenti. Quindi, per questo mi preoccupo, di fronte alla mia richiesta di maggiore democrazia, che secondo me avrebbe dovuto dispiegarsi in forme un pochettino più strutturate, un pochino più ufficiali, un pochettino più, diciamo, lente, ma, no? Com'è? L'acqua che scava. Non è nessuna furia che si risolva il problema. Abbiamo tutti interessi che si risolva il problema, ma non abbiamo furia. Di fronte a tutto ciò, la domanda che pongo anche a voi, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate nei commenti, è ma questo incontro davvero si dovesse tenere? Potrebbe essere un enorme spettacolo mediatico e diplomatico? Oppure una tragedia mondiale?